Ciao runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast da 0 a 42. Prima di avventurarmi nell'argomento odierno devo assolutamente ringraziare Massimo Ferretti che è diventato un nuovo patron di questo podcast. Grazie mille Massimo per il tuo sostegno, davvero grazie. Ma adesso veniamo a noi. Questo è un argomento con tanti punti di vista, opinioni, abitudini, leggende metropolitane e modi di operare comunque diversi, ovvero la pulizia e la manutenzione un po' a tutto tondo delle nostre amate scarpe da running o anche scarpe da trail running. Perché comunque è doveroso da parte nostra cercare di mantenerle il più integre possibile per allungare un po' la loro vita per quanto il nostro potere, visto anche quello che costano aggiungerei, oltre anche per evitare odori indegni e simili. Sono questi sintetizzando i due motivi principi che ci obbligano o comunque ci consigliano una buona manutenzione, prolungare il più possibile la durata delle scarpe mantenendo protezione e performance più che si può e prevenire gli odori tipici della puzzone di moena. Anche perché i primi tempi in cui correvo personalmente non prendevo particolari precauzioni di igiene e mantenimento e infatti le mie scarpe dopo un po' tendevano a puzzare di morte. Quindi parlo proprio per esperienza personale. Le usavo, le lasciavo lì a marcire, a fermentare, finché dopo un po' iniziavano ad avere mille mila problemi. Al che mi sono detto ma vuoi che non esistano su internet una tonnellata di info utili per evitare questo problema e infatti c'erano ovviamente. Ed è anche grazie a queste tecniche che pure io, come Homer Simpson, ho vinto il premio Puzza Corporea Migliorata. Quindi in sostanza non mi sono inventato nulla di nuovo. Come al solito in questo podcast si copia sempre da qualche parte. Ma come d'abitudine ho sperimentato un po' e raccolto idee e suggerimenti che penso potranno anche essere utili a qualcuno che si è trovato o tuttora si sta trovando nella mia situazione di qualche anno fa. Insomma adesso vi darò qualche dritta sparsa qua e là delle cose che conosco e che faccio io in prima persona. Alcune saranno cose ovvie per carità ma vi invito fin da subito a dirmi la vostra perché questo è il classico campo dove ognuno ha la propria ricetta segreta consigliata dalla nonna con prodotti naturali o meno però tutti accomunati dall'avere delle proprietà magiche in grado di far sparire la puzza anche dopo aver corso una 100 miglia interamente sott'acqua. Come sempre tutti i miei contatti e riferimenti per contattarmi li trovate nelle note. Ma ora iniziamo. Numero 1 rotazione di più paia. Ok questo è un po' un mezzo trucco, un po' falso se vogliamo, nel senso che richiede almeno che si abbia a disposizione due paia di scarpe nel vostro armadio e anche che abbia senso poi poterle alternare nelle diverse uscite. Insomma cominciamo bene direte voi se fin dal primo consiglio si inizia con i mezzi trucchetti ma datemi fiducia. Proprio come il vostro corpo ha bisogno di recuperare dopo un allenamento anche le scarpe necessitano di riposo. Soprattutto quando la schiuma si comprime dopo una bella corsetta proprio lei ha bisogno di tempo per asciugarsi e riprendere un po' questa forma originale. Se avete almeno un secondo paio di scarpe a disposizione il primo può riposare appunto mentre usate quell'altro. Uno o due giorni in più senza utilizzo aiutano le scarpe a durare complessivamente più a lungo. Inoltre questo non c'entra con la manutenzione ma è doveroso dirlo se si usano due o più modelli diversi di scarpe è plausibile che alterniate anche tipologie differenti in base al tipo di allenamento da svolgere cioè che siano adatte a ciò che andrete a fare. Per esempio un'uscita di qualità Magrari avrà un suo paio specifico dedicato così come invece un lunghissimo un altro modello. Allo stesso modo tipologie diverse di scarpe potrebbero anche avere drop differenti ed un po' di alternanza in questo senso può anche aiutare a rafforzare i tendini ed i muscoli di piedi e delle gambe. Consiglio numero due se è necessario asciugatele. Se si corre sotto un bel temporale, un sentiero con qualche guado, del fango o anche in estate se si suda da bestie ci si ritrova poi con le scarpe bagnate in certi casi proprio fradice. Ed è importante fare in modo che invece si asciughino bene perché quelle bagnate poi alla lunga iniziano ad odorare in modo parecchio fastidioso per usare un eufemismo proprio perché si creano dei batteri. Un modo semplice per asciugare le scarpe da running consiste nel rimuovere la soletta, metterle da parte in un luogo non umido dove possono asciugarsi facilmente ed imbottirle con qualcosa di assorbente come carta di giornale o tovaglioli asciuga tutto di carta e poi ovviamente lasciatele riposare per un bel po' finché non tornano asciutte. Se non avete a disposizione la carta di giornale dato che magari non ne comprate va benissimo anche quella delle pubblicità che puntualmente ricevete in cassetta e cestinate immediatamente così darete anche un'utilità a questo inutile spreco di cellulosa. Dritta numero tre proteggetele dalle intemperie ok che è giusto e doveroso far asciugare le scarpe in modo anche naturale e lasciarle un po' al sole ci sta ci vuole ma non esagerate non abbandonatele in veranda lasciandole al loro destino così a cuocere per giorni finché non le andrete a recuperare per utilizzarle di nuovo. Come detto il sole aiuterà sì le scarpe ad asciugarsi ma al tempo stesso inizierà anche a degradare i materiali se le lascerete lì per troppo tempo e poi è chiaro ma lo dico giusto per completezza non è nemmeno il caso di abbandonarle sulla finestra quando piove nevica o cose di questo tipo. Inoltre so che qualche collega runner di quelli super previdenti tiene pure un paio di scarpe di riserva perennemente nel bagagliaio della propria macchina però così facendo le temperature eccessive specie in estate possono danneggiarle le cuociono letteralmente non lasciate scarpe da running in auto per lunghi periodi di tempo anche perché non so quanto poi le andrete veramente ad usare poi questo paio di riserva. Consiglio numero 4 pulitele ogni tanto c'è gente che pulisce le scarpe molto molto spesso in modo quasi ossessivo ma una pulizia profonda non è sempre necessaria tuttavia soprattutto se fate del trail è bene darci ogni tanto una bella lavata ci vuole proprio e li fa anche bene. C'è chi le mette in lavatrice e chi preferisce un lavaggio a mano. Io sono di questa seconda fazione considerando quanto costano le scarpe non voglio correre il rischio di rovinarle per una lavatrice eccessivamente aggressiva ma capisco anche bene che in lavatrice ci possano pure stare tranquillamente seppur in giro va detto che ho letto svariate opinioni anche fermamente contrarie personalmente comunque non la vado a demonizzare a tutti i costi se decidete per questa strada ovvero per la lavatrice mi raccomando almeno usate il ciclo a freddo perché come già detto anche in precedenza le temperature calde possono danneggiare le colle le saldature utilizzate per tenere insieme proprio i pezzi delle scarpe e quindi di conseguenza ridurne la durata. Per lavarle a mano basta armarsi un po' di pazienza acqua ed uno straccio spugnetta o spazzolina non essendo un'operazione da fare tutti i giorni preferisco comunque questa opzione anche se ovviamente porta via più tempo rispetto alla lavatrice ed ovviamente bene togliere fango detriti sporcizia varia per evitare un accumulo eccessivo se si tratta di fango secco si possono anche banalmente sbattere le scarpe e poi spazzolare via tutto ciò che rimane a prescindere da come le laverete non mettetele neanche nell'asciugatrice come già detto pochi secondi fa il calore danneggia le scarpe asciugatele come invece già spiegati in precedenza con la carta o l'asciugatutto numero 5 indossatele solo per correre finché le scarpe da corsa sono in rotazione usatele solo per quello lo so che alcune sono anche fighe e o molto comode ma non importa non utilizzatele mai per qualcosa di diverso dalla corsa anche se si cammina soltanto si consumano lo stesso specialmente nella loro capacità di ammortizzazione lo abbiamo già detto che le scarpe hanno bisogno di riposo e metterle ai piedi in una giornata non di corsa ma magari di passeggio non consentirà loro di recuperare se proprio le adorate così tanto compratevene un altro paio identico ne userete uno per correre ed uno per andare a farci le commissioni quando poi la scarpa sarà effettivamente a fine vita potrete anche usarla per andarci a passeggio ma in quel caso lì sarà un modo per riutilizzarla e darle una seconda vita ma appunto non la userete più per correre consiglio numero 6 slacciatele sempre a fine allenamento potrà anche sembrarvi una cosa scontata ma non lo è così tanto credetemi a volte viene quasi istintivo a fine allenamento toglierci le scarpe usando i piedi con un piede togliete la scarpa appunto è una sorta di liberazione lo capisco però così facendo alla lunga si rischia di rovinare la scarpa stessa pertanto è meglio slegare i lacci e togliere le scarpe a manina allo stesso modo se nel tempo i lacci si stanno logorando via via ma le scarpe apparentemente ancora no si potrebbero andare a sostituire esclusivamente i lacci numero 7 ad ogni scarpa il proprio terreno ed utilizzo altra cosa magari banalotta ma vi assicuro di aver visto in giro di tutto e anche cose strane tipo un po' questa indossate scarpe da trail running sui sentieri e scarpe da corsa classiche su strada asfalto e compagnia tutte quelle scarpe sono progettate specificamente per uno scopo ed una superficie e non lo fanno anche per farci spendere soldi online o al negozio o almeno non lo fanno solo per quello sarà anche questo super scontato ma ve lo dico velocemente lo stesso le scarpe da trail sono dotate di una tassellatura che consente maggior aderenza sono costruite proprio per resistere allo sporco al fango alle pietre ma ovviamente si consumano più rapidamente su asfalto e cemento al contrario quelle da strada non offriranno l'aderenza o la protezione extra che si potrebbe desiderare su un percorso off road ma ammortizzano le articolazioni ed offrono un buon sostegno su un terreno più duro oltre che garantire prestazioni differenti e mediamente migliori perciò ad ogni terreno la propria scarpa così da non andarle a rovinare a caso numero 8 rimedi contro gli odori un po' in generale nel tempo ho letto e sentito veramente di tutto per prevenire l'insorgere di puzze varie nelle scarpe da corsa oltre a quanto già detto circa asciugatura e conservazione aggiungerei che si possono anche utilizzare dei prodotti che possono ridurre l'insorgere di odori ciò accade perché col tempo si vanno ad accumulare batteri che iniziano appunto a causare questi odoracci esistono svariate teorie e tecniche prodotti ad hoc per capi sportivi talco e simili non ho la più pallida idea di cosa funzioni meglio tra tutti questi io ho provato comunque nel tempo proprio uno spray antipuzza e devo dire che un po' ha funzionato si tratta di una soluzione da spruzzare sulla soletta e all'interno della scarpa per far sì che si vadano ad eliminare questi batteri agendo direttamente sulla fonte dell'odore e non limitandosi a coprirla come un deodorante nono punto risuolatele se la tomaia della vostra scarpa è ancora a posto ma la suola invece è totalmente piallata potreste anche prendere in considerazione l'idea della risuolatura sarà un'operazione certamente meno costosa del comprare un paio di scarpe nuovo di zecca chiaramente non sarà la stessa cosa dell'avere un modello totalmente intonso appena uscito dalla scatola ma la risuolatura potrebbe comunque allungare ulteriormente la vita della vostra scarpa preferita per chi corre su strada bisogna dire che non è una prassi molto comune anzi nemmeno su trail se vogliamo ma è già un po' più diffusa chi lo fa spesso va a risuolare con le famose vibram al punto che ormai esistono negozi fisici ed online anche specializzati ed autorizzati da vibram stessa che offrono questo servizio ovviamente non piglio nulla per dirvelo ci mancherebbe altro ma per completezza ci teneva a farvelo sapere decimo ed ultimo tenete traccia dei chilometri percorsi finiamo con un consiglio che in realtà serve a poco per prolungare la durata delle scarpe o per evitare cattivi odori ma comunque anche questa è una buona norma ovvero sapere la data di nascita della scarpa per così dire e quanta strada ha fatto il top sarebbe quello di segnarsi il momento in cui sono proprio state prodotte ma non è sempre facile capirlo dalla confezione di solito non c'è scritto non è esplicitato almeno segnatevi quando le acquistate e tracciate nell'utilizzo potrebbe apparentemente sembrare complesso ma invece è molto molto facile ci sono tantissimi strumenti che vi consentono di farlo garmin connect strava eccetera eccetera basta associare il modello di scarpa usato alla singola attività svolta e manterranno loro il conto questo serve perché come ben saprete anche le scarpe dopo un tot di tempo devono essere sostituite ogni scarpa la sua durata media che poi anche influenzata da quanto pesate da dove ci correte dalla vostra tecnica di corsa e da altri fattori ci sono modelli che si piallano dopo 300 400 chilometri altri che arrivano senza problemi anche 700 800 tenendo sotto controllo questo dato potreste scoprire che il vostro modello preferito è ancora sano e pieno di vita dopo tanti chilometri oppure al contrario potreste accorgervi che altri modelli non durano così a lungo periodicamente fate un check dello stato di salute della scarpa dando proprio un'occhiata alla suola all'intersuola alla tomaia e così via personalmente mi accorgo di quando una scarpa è a fine vita perché usandola poi mi viene un po a far male il ginocchio sinistro ma tracciare i chilometri percorsi vi aiuterà anche a prevenire in parte problemi di questo genere avendo sotto controllo in modo più chiaro la durata delle vostre scarpe da corsa questi erano i miei 10 consigli per provare a fare una manutenzione decente delle nostre scarpe spero che possano esservi utili per prolungare il più possibile la loro durata e per limitare l'insorgere dei cattivi odori come detto in apertura sono aperto a qualsiasi vostro suggerimento sul tema nelle note dell'episodio trovate tutti i miei contatti instagram telegram e quant'altro in generale fate proprio un giro a tutto tondo nella descrizione c'è una marea di roba ci sono un sacco di link e dove cliccate fate bene trovate qualcosa di interessante e poi infine per fare come massimo ed aiutarmi nel promuovere la cultura del running per noi amatori sempre lì dentro trovate il link per accedere al canale patreon anche un euro al mese per me conta moltissimo e direi che per oggi è tutto cari runners da oggi alto là alla puzza ci sentiamo alla prossima puntata